www.marizopoli.it, nuovo articolo di Giuseppe Mondelli sul settimanale Mondo Padano, in edicola e in digitale su www.mondopadano.it, nell'inserito economia e lavoro, nella rubrica risparmio e finanza, un focus sull'intelligenza artificiale, con anche dei riferimenti recentissimi al G7 di Papa Francesco, con i potenti del mondo, e di invece Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, per quanto riguarda e Paolo Savona, per i 50 anni della Consum, l'utilizzo etico, l'importanza dell'argomentazione e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che è il tema del nostro tempo, che l'intelligenza artificiale c'è in corso da oltre 50 anni, i progressi di questo computer, la gestione dei dati e lo sviluppo dei nuovi algoritmi, quindi tutto questo filone per un rapido focus su questo tema, che è molto dibattuto sia in finanza sia per quanto riguarda il credito. Una buona lettura!